Il sultano è tornato arrecando doni. Grazie. Sono bellissime. Sai una cosa? C'era Alice nell'hotel. Cosa? Vendono cartoline artistiche nella hall. Ne ho comprata una per incrementare le tue vendite. Giovane donna, Londra. E ho anche cercato il tuo libro al Museum of Modern Art e l'ho trovato. C'era un tizio che lo stava comprando. Un ometto con una ridicola barbetta. Sbavava sulla tua foto all'interno della copertina. Era rapato il mandrillo. Io ero fiero di te. Hai sfondato a New York. Sei meraviglioso. Non dimenticarlo. Perché ti sei vestito? Perché tu potresti essere sul punto di lasciarmi e non volevo trovarmi in vestaglia. Sono stato a letto con una a New York. Una puttana. Mi dispiace. Perché me l'hai detto? Non potevo mentirti. Perché no? Perché ti amo. Va bene. Davvero? Perché? Qualcosa non va. dimmelo. Stai per lasciarmi? Per questa cosa? Perché? Dan. è il nostro zimperlo. Io lo amo. Stai con lui adesso? Da quando? Dalla mia inaugurazione l'anno scorso. sono disgustosa. Sei fenomenale. Abilissima. Perché mi hai sposato? Avevo smesso di vederlo. Volevo che funzionasse con te. Perché mi hai detto che volevi dei figli? Perché era vero. E adesso li vuoi fare con lui? Sì. Non lo so. Ma... Noi siamo felici. Non è così. Andrei a vivere con lui? Tu puoi stare qui se vuoi. Oh, senti, io me ne frego delle tue briciole. Tu mi hai preso in giro come la prima volta che ci siamo visti. Hai lasciato che mi impiccassi per il tuo divertimento. Perché non me l'hai detto subito? Avevo paura. Sevigliacca, viziata, un pezzo di merda. Ti sei vestita perché credevi che ti avrei picchiata? Per chi mi hai preso? Mi è capitato altre volte. Non con me! Ti scopa bene? Non fare così. Rispondi alla domanda! È bravo? Sì. Meglio di me? Diverso. Meglio. Più tenero. Che vuol dire? Lo sai che vuol dire. Dimmi. No. Che io ti tratto da putana? A volte sì. Chissà perché. Che vuol dire? Che vuolo dire?